Ciao a tutti amici, con questo video voglio cercare di riassumere in un modo un po' più originale tutti i libri e tutta l'esperienza che mi sto portando dietro da due anni a questa parte su come cercare di raggiungere la libertà finanziaria in un modo strutturato. Naturalmente non mi invento niente, tutto quello che vi andrò a descrivere in un certo senso sono passaggi di buon senso, però mi sono accorto che se non si ha una visione ben precisa e se non si inquadrano bene i passi da fare è sempre un po' difficile andare a ordinare le idee e raggiungere i propri obiettivi, quindi lo scopo appunto di questo video è anche indicare col termine di algoritmo un percorso che ci può aiutare e guidare verso il raggiungimento dei nostri obiettivi personali. Quindi partiamo dall'inizio e diamo per scontato di non avere alcun tipo di reddito, quindi ci chiediamo riusciamo a generare del reddito da uno stipendio oppure da un'attività imprenditoriale? In caso negativo naturalmente dobbiamo cercare di capire quali sono le modalità in cui noi possiamo offrire valore alla società o a qualcuno in cambio di un reddito fondamentalmente, quindi bisogna capire cosa ci piace fare, quali sono le nostre competenze e quanto sostanzialmente vengono pagate queste competenze. Logicamente più le nostre competenze sono rare, offriamo valore a qualcuno, più le nostre probabilità di avere una buona paga oraria saranno elevate. Quindi una volta che riusciamo a generare un certo tipo di reddito dobbiamo chiederci ma riusciamo a risparmiare almeno il 10% di questo reddito per mettere da parte qualcosa da investire. Se la risposta è negativa quindi possiamo chiederci possiamo diminuire le spese per arrivare a risparmiare almeno quel 10%? Se la risposta è positiva quindi dobbiamo valutare di ridurre le spese e quindi capire, questo ci porta a capire quello che è davvero importante nella nostra vita, invece quello cui possiamo rinunciare. Tutti i beni di lusso oppure piuttosto che un telefono di ultima moda ci sono centomila spese in realtà su cui possiamo fare leva per appunto rendere più efficiente il nostro risparmio. Invece in caso negativo l'unica altra soluzione è chiedersi se possiamo aumentare il reddito. In caso negativo allora bisogna tornare indietro e valutare quali sono le possibilità per offrirsi alla società e al mercato del lavoro quindi come aumentare e in questo caso trovare un altro lavoro che ci permetta di aumentare il reddito. Invece i casi in cui possiamo aumentare le nostre entrate sono comunque chiedere un aumento, migliorare la nostra carriera quindi andare dal proprio capo e chiedere se possiamo avere un avanzamento, sempre accettare una nuova opportunità lavorativa oppure trovare delle rate supplementari. Potrebbero essere ad esempio quelle di pubblicare dei contenuti. Quindi sostanzialmente una volta che noi riusciamo a creare tutte le condizioni per risparmiare almeno il 10% noi lo preleviamo alla fonte dalle nostre entrate e lo accantoniamo e lo mettiamo da parte. E cosa ci facciamo? Naturalmente prima bisogna fare un'operazione di studio. Questo qua è diciamo il passaggio più importante dopo quello descritto nel punto numero 2. Quindi dobbiamo valutare quali sono le nostre migliori opportunità di investimento. Un esempio sono quelle di studiare i mercati finanziari per capire in che azioni andare a investire il nostro patrimonio oppure studiare il mercato immobiliare per mettere a reddito degli immobili, capire se possiamo lanciarci in qualche business, capire se possiamo investire nel mercato delle criptovalute, capire se possiamo investire le nostre conoscenze nel mercato immobiliare oppure semplicemente investire in un corso di formazione che ad esempio ci porterà potenzialmente ad avere delle rendite molto molto più elevate che una rendita da dividendi, per fare per fare un esempio. Quindi andiamo avanti. Una volta che abbiamo studiato tutte le nostre opportunità, il nostro spettro di opportunità, è arrivato il momento di eseguire l'azione concreta, quindi di investire e cercare di diversificare anche. Naturalmente non è mai consigliabile mettere tutte le uova in un paniere, ma come ho già detto in un video precedente, bisogna sempre valutare la correlazione tra i nostri investimenti, cioè cercare di investire tra asset il più possibilmente decorrelati, in modo che se qualcosa va male l'altro magari può compensare ad esempio. Naturalmente dopo che abbiamo investito dobbiamo accettare la volatilità, il rischio, le perdite e capire che una volta che si fa un investimento non avremo mai un ritorno immediato, anzi magari si scenderà del 20% prima di avere dei guadagni del 100%, per farvi un esempio. Se guardate l'andamento di Bitcoin nell'ultimo anno vedrete che proprio così c'è stato un calo del 30-40% fino a 3.000$ e adesso mentre sto registrando questo video è a 23.000$, per farvi un esempio concreto. Quindi dopo il passaggio 11 sostanzialmente possono avvenire due cose, o raccogliamo i profitti o come può avvenire all'inizio di questo processo raccogliamo le perdite. In entrambi i casi ci sono due risvolti positivi. Le perdite ci permettono di capire dove migliorarci e i profitti ci permettono di andare a reinvestire il capitale guadagnato ed è proprio questo che sta alla base del principio di interesse composto. Quindi la conseguenza di tutti questi casi qua è l'accumulo di conoscenza su come investire sempre in modo più efficiente e migliorarsi. E quindi qui si va a creare un ciclo che si autosostiene, quindi investo, diversifico, accetto i miei orizzonti temporali, arrisco la volatilità, raccolgo i profitti e le perdite, accumulo conoscenza e reinvesto. Poi naturalmente questo è optional però è anche possibile concedersi dei lussi con parte dei profitti anche per darsi un minimo di reward, di premio del lavoro che si è svolto se naturalmente si è avuto successo. Anche se consiglio soprattutto nelle fasi iniziali quello di cercare di reinvestire il più possibile i propri profitti proprio per accelerare la curva di crescita di accumulo del proprio patrimonio. E naturalmente tutto questo processo ha delle conseguenze positive. La prima, secondo me almeno quella che mi riguarda di più e che è più ovvia, è che si diventa gradualmente più indipendenti dal lavoro e si può far fronte più facilmente a eventi negativi come ad esempio la perdita del posto di lavoro. Ma in più, anche ipotizzando che il proprio lavoro non piaccia, questo non esercita più questo potere su di noi perché non abbiamo più questa necessità di lavorare per forza, anzi possiamo scegliere un lavoro che ci piaccia e quindi possiamo scegliere di lavorare per il piacere di lavorare e non per il bisogno di lavorare. Questo già ci rende più liberi anche se non siamo finanziariamente indipendenti. E poi naturalmente un'altra conseguenza di tutto questo è che appunto si presentano più opportunità tra cui scegliere, non solo grazie alla ricchezza che abbiamo ottenuto ma anche grazie alle competenze che abbiamo ottenuto. Quindi tutto questo bagaglio che ci porta fino a questo passaggio qua lo possiamo spendere magari per migliorare la nostra carriera e quindi aumentare doppiamente le ricchezze sia del reddito che entra, magari anche pianificando di costruire un'attività imprenditoriale, sia del reddito messo a patrimonio e investito. E con questo abbiamo finito il percorso che vi ho tracciato almeno per il mio stato attuale di conoscenza. Poi nessuno mi vieterà di andarlo ad arricchire ulteriormente magari anche in base ai vostri consigli. Prima di chiudere vi voglio semplicemente mostrare le variabili che possono andare a influenzare questo processo. La prima naturalmente è quella di valutare le proprie capacità di acquisire competenze richieste dal mercato e riuscirle a comunicare in modo efficace al datore di lavoro o al cliente. Naturalmente più, come abbiamo detto all'inizio, più si hanno questo tipo di competenze richieste più è facile muoversi all'interno di questo algoritmo altrimenti bisogna lavorare molto per ottenerle fondamentalmente. Poi naturalmente serve una buona capacità di risparmio e perseveranza, quindi bisogna abbandonare un po' tutti gli schemi di consumismo che ci ha imposto la nostra società. Naturalmente anche se guadagniamo, sparo una cifra, 10.000 euro al mese, però non riusciamo a risparmiare perché ci vogliamo concedere una macchina estralusso, una casa estralusso, saremo sempre schiavi comunque di questo contesto e non saremo mai finanziariamente liberi. Poi comunque c'è una parte del tutto soggettiva che sono gli obiettivi personali, sono diversi per ciascuno perché non tutti vogliono ad esempio accumulare un milione di euro, magari alcuni hanno bisogno di 100.000 euro, poi dipende dalla famiglia che si vuole costruire, dal tempo che si vuole dedicare alla propria famiglia, dalla zona dove si vuole vivere, ad esempio se tanti digital nomad si trasferiscono in Thailandia dove comunque le spese sono molto basse, è diverso se vogliamo vivere in centro a Milano. Quindi ognuno si deve costruire il suo obiettivo personale ritagliato solo su di lui e poi riadattare questo percorso che vi ho presentato in base appunto alle sue esigenze. Poi naturalmente il punto 4 dovrebbe essere molto più in alto come priorità però non bisogna fare uso del debito naturalmente, se non per attività che possono generare reddito o per emergenze. In questo algoritmo non è considerato il debito. Poi la spesa corrente mensile non dovrebbe mai superare le entrate meno il 10% dei risparmi, più i profitti di investimento, altrimenti ovviamente si va in perdita. Ultimo punto, il processo di accumulo può anche rischiare di compromettere dei rapporti personali. Questo perché soprattutto perché parte da zero può diventare un po' una piccola ossessione a riuscire a raggiungere questi obiettivi che si vanno a ripercuotere magari sulle altre persone anche in modo involontario e indiretto. Oppure quando anche persone care vanno notare che si crea un certo dislivello anche in termini finanziari, questo può generare delle invie da tenere in conto. Bene, abbiamo concluso anche con questo video, fatemi sapere se questo tipo di contenuti vi possono interessare e anche se avete dei punti da integrare rispetto alla vostra esperienza. Vi ringrazio a tutti, vi auguro buone feste e ci sentiamo alla prossima occasione. Ciao a tutti!